omnicanalità, intelligenza artificiale, real time analytics. C'è un comune denominatore nei progetti che si sviluppano in questi ambiti ed è la data governance. Il cloud spinge verso la centralità delle informazioni e quindi bisogna agire con urgenza. Il tema è duplice e riguarda sia la migrazione sia la necessità di gestire l'integrazione dei dati. Il tutto con la agilità, la velocità richiesta dal business. La governance delle informazioni è fondamentale per garantire una delivery adeguata. Di tutto questo parleremo il 23 settembre nell'evento Time for Cloud in compagnia del professore Stefano Maidetti dell'osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano insieme agli esperti IBM e ai numerosi utenti che ci racconteranno le loro esperienze. Non mancate! . . .